Che cos'è quello? Ma che diavolo era quello? No, sai perché vedi, stavo guardando qualcosa, qualcosa, sai, pareva proprio che attraversasse il cielo e di colpo, niente, è schizzato via, è come un lampo, sì, è schizzato via. E poi mi ha lampeggiato tre volte. Da che cosa stai scappando? Tu hai ancora molto da vivere, dovresti fare un cambiamento radicale nella tua vita, l'essenza dell'esperienza dell'uomo sta nelle nuove esperienze, sta nelle nuove esperienze. Farò tesoro di questo. Santa da family, Santa da family, Santa da family, Santa da... Se cambiamo noi, il mondo cambia. What exactly is the Pacific Crash Vortex? La plastica è così indistruttibile che è molto difficile da smaltire. La maggior parte della plastica che noi utilizziamo finisce in mare. E ci sono delle isolette che non sono isolette esotiche, anzi ce n'è una in particolare nel mezzo dell'Oceano Pacifico ed è fatta tutta di plastica. Crimine culturale. Noi abbiamo un sistema truccato, gestito da banche, potere violento e vertici occulti. Il consigliere scientifico di Obama, John Holdren, il 15 novembre 2011, ha pubblicamente ammesso che il governo americano da 15 anni effettua l'irrorazione chimica dei cieli a favore della geoingegneria e della manipolazione climatica. Un crimine culturale. Se cambiamo noi, il mondo cambia. I veri terroristi di questo mondo indossano abiti da 5.000 dollari e lavorano nei piani alti della finanza, del governo e degli affari. Il gruppo Bilderberg governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo sviluppo democratico di queste democrazioni. Il gruppo Bilderberg, uno dei responsabili della strategia dell'attenzione, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi. Ma ancora più fondamentale del controllo del cibo è il controllo della fornitura dei sessi. Questo è il motivo per cui le corporazioni tipo la Monsanto o la Delta in Pine giocano cercando di creare semi perfetti. Questo è un tentativo per controllare il mondo. Fa parte di un piano per limitare la libertà degli altri paesi. Stiamo parlando di un sistema consolidato che rende inutile il tuo voto. Questo programma è stato offerto da... Il coraggio e lo spirito d'iniziativa. Il coraggio e lo spirito d'iniziativa.